L'uomo stava scortando l'ergastolo per un'altra causa. In questo momento era in semi-libertà e aveva il permesso per uscire durante le ore di urne. Di sera però non ha fatto rientro in carcere? No, non ha fatto rientro in carcere perché la sera di ieri ha commesso appunto questo tentato omicidio e poi è fuggito. Ieri sera si sarebbe dovuto presentare in carcere ma in realtà è andato a casa della compagna, l'ha sfregiata con l'acido e poi l'ha coltellata, infine si è dato alla fuga. L'aggressione si è consumata in provincia di Parma a Sorbolo Mezzane dove ieri sera un 61enne ergastolano originario di Napoli si è scagliato contro la compagna e madre dei suoi due figli, uno dei quali presenti in casa in quel momento. Prima le ha svuotato una bottiglia di acido sulla testa, poi l'ha colpita con un fendente sul fianco. Infine si è dato alla fuga lungo l'autostrada del Sole ad intercettarlo e fermarlo dopo 200 chilometri carabinieri e polizia stradale. In sinergia si è fatto questo inseguimento da Parma, sia i colleghi di Parma, sia i carabinieri di Firenze e Arezzo che si trovavano nel tragitto e la polizia stradale di Arezzo. Si è riuscito a intercettare la macchina in fuga verso sud all'altezza del casello, dello svincolo di Incisa-Reggello e poi da Incisa-Reggello è nato un inseguimento che si è concluso all'altezza dell'area di servizio di Badia Alpino, dove la polizia e i carabinieri insieme hanno bloccato la macchina e hanno tratto in arresto la persona. Il 61enne adesso dovrà rispondere di tentato omicidio aggravato, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ed evasione. Era stato condannato all'ergassolo per gravissimi reati contro la persona commessi alcuni decenni fa. Adesso si trova nel carcere a retino di San Benedetto a disposizione dell'autorità giudiziaria. La donna, 54enne, invece è ricoverata in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.